Baccini, rinviato l'insediamento della commissione speciale. Non è stata raggiunta la maggioranza dei voti e dei componenti. Sarà adesso l'ufficio di presidenza del Consiglio a proporre un ufficio di presidenza provvisorio. Sarà adesso l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a norma di quanto stabilito dal regolamento interno, a proporre, già nelle prossime ore, un ufficio di presidenza provvisorio per la commissione speciale, che ha l'obiettivo di supportare il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Durante la seduta di insediamento, infatti, non è stata raggiunta la maggioranza richiesta per la nomina dell'ufficio di presidenza della commissione. Due le liste presentate durante la riunione di insediamento. La prima, a firma della maggioranza, con la candidatura di Enrico Sostegna, presidente. La seconda, a firma dei componenti dell'opposizione, proponeva Marco Landi come presidente e Stefano Scaramelli, di Italia Viva, come vicepresidente. La proposta delle opposizioni è stata rifiutata dallo stesso consigliere Scaramelli, annunciando che non avrebbe partecipato al voto perché non interessato alle poltrone e portando così al ritiro della lista. Mi sembra che si sia rotta l'opposizione. Siamo di fronte ad una schizofrenia totale perché la commissione speciale è stata proposta dall'opposizione. Noi l'abbiamo approvata perché riteniamo che ogni strumento che ha uno scopo propositivo di monitoraggio, di suggerimento, che possa coaduvare e supportare il Presidente e la Giunta per fare una migliore campagna di vaccinazione, ci ha trovato e ci troverà sempre d'accordo. Dopodiché siamo andati in commissione, abbiamo fatto una proposta che comprendeva il Presidente Enrico Sostegni, facendolo coincidere con quella della Commissione Sanità, perché in questo momento parlare di sanità significa soprattutto occuparsi dei vaccini, da fare bene e il prima possibile. Abbiamo fatto una proposta di Vicepresidente che è il portavoce dell'opposizione, che aveva accettato questa Vicepresidenza, dopodiché l'opposizione non l'ha più votata. Quindi noi non comprendiamo come questo possa accadere se non per una schizofrenia legata probabilmente a posizionamenti e a divisioni della minoranza, perché una parte non aveva già partecipato alla Commissione Speciale, cioè una parte ha dato l'ok per quanto riguarda una proposta che prevedeva la Vicepresidenza al loro appannaggio e poi non la si vota. Quindi mi sembra che più che parlare di divisione della maggioranza, si debba parlare di schizofrenia da parte della minoranza. Allora il Presidente Scaramelli ha dichiarato di non partecipare al voto nel momento in cui si è trovato coinvolto in una proposta diversa da quella della maggioranza che era fra l'altro stata anche concordata da parte dell'opposizione e quindi ha detto che lui non si voleva far strumentarizzare da parte dell'opposizione e non ha partecipato alla votazione neanche successivamente purtroppo quando poi la minoranza invece aveva cambiato la sua proposta. Io spero che sia stata da parte anche sua un elemento legato alla prima valutazione di non farsi strumentalizzare poi si era assentato perché se invece ci fosse stata una scelta diversa è chiaro che ci sarebbe anche da imputare la mancata elezione in questa fase da parte di Italia Viva. Personalmente vogliamo dare il nostro contributo ai lavori della Commissione sui vaccini, non ci è interessato questo triatrino tra i partiti rispetto a chi debba fare il Presidente, il Vice Presidente, non ci siamo iscritti e non partecipato a questo aspetto. Abbiamo fiducia sul fatto che se sostegni sarà il Presidente e possa però lavorare in questa Commissione ponendo delle condizioni. Io pongo delle condizioni per lavorare in questa condizione, una convocazione permanente della stessa, senza interruzione di continuità, la presenza costante ad ogni riunione del Presidente Gianni perché ogni cosa venga decisa da ora in poi sui vaccini, il Presidente possa condividerlo con la Commissione. Queste sono le condizioni che noi poniamo e si possa allo stesso tempo avere l'ausilio di tecnici e di scienziati che possano supportare le decisioni che dobbiamo prendere, condividere quelli che saranno gli hub da definire, condividere le possibilità e le strategie per coinvolgere le aziende, le associazioni di volontariato, l'eliminazione totale e immediata dei click day per evitare che le persone debbano fare le ore di attesa di fronte a un computer e per promotare un vaccino, chiediamo l'impiego dei medici di medicina generale per poter vaccinare i fragili e soprattutto chiediamo di fare una comunicazione che diventi informazione. Noi vogliamo informare insieme i cittadini toscani, ci aspettiamo che il lavoro di questa Commissione ogni giorno che si va a riunire alla sera dia comunicazioni sia questa la comunicazione istituzionale e formale della Toscana dà ai cittadini in merito ai vaccini e dal giorno dopo si facciano le cose che questa Commissione ha deciso di fare in maniera collegiale. Se c'è una Commissione ha un senso di lavoro, noi siamo per dare una mano, siamo per dare un contributo, non siamo per prendere una poltrona, non ci appartiene, motivo per il quale non abbiamo partecipato alla discussione in merito a una poltrona in più o meno. Noi ci serve fare un vaccino in più, è meglio un vaccino in più che una poltrona in meno. Noi abbiamo presentato la nostra lista, abbiamo chiesto che il Presidente della Commissione speciale lo facesse Marco Landi, abbiamo dato un nome della maggioranza come succede per il Vicepresidente e abbiamo chiesto che il Segretario Questore lo facesse Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Quindi noi abbiamo portato la nostra proposta di ufficio di Presidenza che evidentemente ha scaturito qualcosa all'interno della maggioranza per cui poi Scaramelli non si è sentito nemmeno di votare sostegni. Quindi il problema evidentemente è tutto afferibile alle dinamiche che purtroppo vediamo accadere dall'inizio della legislatura all'interno della maggioranza. Io dico solo che noi eravamo pronti il giorno dopo per partire con questa Commissione speciale perché riteniamo che i disagi debbano essere risolti e che ciascuno di noi possa portare un contributo. Lo abbiamo detto, ci abbiamo messo la faccia, ci vogliamo mettere anche il nostro lavoro perché cose come quella successa stamattina non devono più succedere, portali che non funzionano. Vediamo che purtroppo la Toscana è l'ultima per la vaccinazione dei sessantenni. Ecco, ci sono tante cose ancora da risolvere. Noi vogliamo dare un contributo, ma evidentemente le lotte interne alla maggioranza fanno in modo che si ritardi la creazione della Commissione, ma evidentemente anche l'istituzione della stessa. A noi ci dispiace, però io credo che la politica debba guardare anzitutto al bene dei cittadini. Purtroppo in questo momento, oggi, abbiamo visto un brutto spettacolo che non ci fa portare il nostro contributo e il contributo che tante persone per bene ci chiedono tutti i giorni. Adesso c'è l'ufficio di Presidenza che è riunito, cercheremo di capire cosa deciderà il Presidente Mazzeo. Certo è che noi rimaniamo fermi al fatto che pensiamo che quella Commissione sia utile se lavora. Se deve essere motivo di spaccatura interna alla maggioranza e questo non ci consente di farla lavorare come noi abbiamo chiesto e come pensavamo potesse fare, a quel punto dovremmo trarre le nostre conclusioni e dovremmo chiedere alla maggioranza se ancora hanno intenzione di portare avanti pertanto quello che è il teatrino delle poltrone, delle votazioni, assessori sì, non assessore no, allargamento dell'ufficio di Presidenza o se si intende veramente lavorare per i toscani. Non avevamo mai visto onestamente una situazione così paradossale. Noi abbiamo votato convintamente il 7 di aprile l'istituzione di una commissione speciale sui vaccini perché eravamo convinti che occorreva un salto di qualità nel piano vaccinale, occorreva dare un contributo fattivo alle tante lacune della fase vaccinazione che c'è in Regione Toscana per esempio come la nostra mozione per vaccinare i malati oncologici anche dopo i sei mesi dalla fine delle cure chemioterapiche o della radioterapia fino ad arrivare ai cinque anni di follow up. Eravamo convinti che occorreva per esempio vaccinare i caregiver, non solo quelli dei bambini sotto i 16 anni ma tutti. Eravamo convinti che occorreva accelerare e vaccinare il più velocemente possibile. Poi ci siamo ritrovati oggi con il paradosso che la proposta, senza prima chiamarci, senza prima sentirci, senza prima nemmeno una telefonata, della presidenza della commissione speciale sui vaccini sarebbe spettata naturalmente al Partito Democratico. Ma a chi? A Enrico Sostegni, cioè a quello che attualmente è il presidente della commissione sanità. E gli stessi membri della commissione sanità il Partito Democratico li ha riportati nella commissione speciale sui vaccini. Noi lo abbiamo considerato un atto veramente poco coraggioso e soprattutto un atto che non avrebbe fatto né luce né chiarezza. Da un lato che non avrebbe portato nessun tipo di contributo. Per questo, come Forza Italia, nonostante avessimo detto di sì all'istituzione, oggi abbiamo detto che non siamo disponibili a partecipare alla commissione speciale sui vaccini se il tema diventa quello di insabbiare, se il tema diventa quello di non scoprire, se il tema diventa quello di non proporre, se il tema diventa quello di dire va tutto bene. Guardate, soltanto stamani mattina sono arrivate migliaia di persone che non sono riuscite a vaccinarsi. Ecco perché laddove non c'è chiarezza non può esserci Forza Italia. Noi ci auguriamo che cambino il nome del Presidente, avete visto come è andata in Consiglio regionale, addirittura le forze di maggioranza non si sono trovate sul nome di Enrico Sostegni. Non vedo perché si dovrebbero trovare le forze di opposizione o perlomeno Forza Italia non si è trovata perché partecipa ad una condizione che si faccia chiarezza, che non vi siano equivoci su quello che è successo e che dall'altro si proponga. Se deve diventare una commissione passatempo noi non siamo disponibili. Uno spettacolo indegno, indegno proprio della peggiore politica che si sente raccontare o si vede nei film. Ecco, oggi grazie all'ostruzionismo, perché non si può chiamare in un altro modo di Forza Italia e di Italia Viva, si è fatto di tutto per impedire la nascita di questa commissione. Quando fuori ci sono problemi grossissimi, i cittadini non riescono a prenotarsi sul portale predisposto dalla regione toscana, addirittura ci sono delle criticità per cui si possono prenotare anche in due liste diverse. Quindi un sacco di problemi che potrebbero essere affrontati in questa commissione, voluta, ricordo, dal Movimento 5 Stelle e anche dalla Lega, votata dal Partito Democratico. Però oggi si è cercato di tutto per impedire la nascita di questa commissione. Abbiamo perso un pomeriggio solo per decidere chi doveva fare il presidente e il vicepresidente, con tutta una serie di cavigli legati al regolamento che, a mio avviso, sono inammissibili. Sono inammissibili soprattutto in un periodo così grave come quello che stiamo vivendo. Ovviamente la presidenza di questa commissione sarebbe stata auspicabile fosse data alla minoranza, ma di fronte alla posizione ferma del Partito Democratico, che, ricordo a tutti, ha i voti in Consiglio per poter decidere senza il coinvolgimento delle minoranze, uno un po' si adatta rispetto alla possibilità di non avere nemmeno questo strumento, perché abbiamo visto come funziona la commissione sanità. L'assessore arriva sempre a pochissimo tempo, risponde frettolosamente alle nostre domande e soprattutto, devo dire la verità, anche l'accettazione delle nostre proposte, delle nostre critiche non trova molto riscontro.